Bene, abbiamo il video sconsiglio spulbicitario del studio del TVG, la televisione del Tatterebo, la bella televisione, sempre presente su telegiornale, e tutti con un chiede di tutto sul mondo in tre, si parte di una famiglia avora, uno vrade, una sorre, uno parente, telefonate, deve fare www.tvg.tv e bocchettini tutto tu e vieni a subito su TV, e fare i piegati di rischi di questa cosa bella in Sardinia. Buongiorno ringrazio, prima va che il suo cantico va a entrare una telefonata e l'abbiamo subito, non si è anche il Chirua, le intendiamo chieste, è pronto? Pronto? Ciao Alfredo. Buonasera. Grazie a voi bene. Ciao Giovanni, come ti stai? Beh, già il sole è rimasto senza ieri. Eh, 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 la gruppa non è la mia, la gruppa è la tua. Inizia, gli abbinabbi, non mi permette, non mi mette la boffa stua, ti mi fai piegare, dopo un anno saluto in televisione che non ti ha inteso, ti mando la cosa, dopo un anno, ho inteso a Giovanni Simula, non ti boffa... Però non ti prende... Apre! Ehi! Con questa artista non ti prende, o vabbè, il colore bello, il suo... Oh, parola! Ha con il caffo, bucai, eh no? Eh? E sui non si è per vicino? Eh? Eh? Bravo! Arratto con il colore bello, ah 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 ah! Oh Giovanni! Vengo a te salutare a pre! Ehi! Sono... Buonasera! Sono cantante, sono sonatore! Ti sono salutendomi! Sì! Buonasera signor Giovanni, come va? Eh eh! Eh! Arratto con la mia! Ah ah ah! Bravissimo, bravissimo! Sono contento di intenderlo, Giovanni! Ehi! Piano piano, dai, gli scrivo il che siamo so! Andriano! Ah pre! Ehi! Si non si intende, si non soffendere, lì nero una perola, il suo cantante! Ehi! Nero a me, l'inno! In poesia, vero, Milonaro? Eh nero, in poesia! Ma non so spueta, curitore, ventichetta, sì! TNG, Adenote, Adenote, Adenote! TNG, Adenote, Adenote, Che c'è la bella sempre! Sì! Bravo Giovanni, bravo! Sì! Questo è il buono, c'è Cristo, vedi prima, come sta unziano, te ne carcando, mi mandiamo a me, questo! E' una commissione, bravo Giovanni, grazie Giovanni, grazie, ti ringrazio, e' una pagherita, sempre sattista, e' una, 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 va bene Giovanni, ti faccio il tuo auguro, sempre a lei che è più panta, come te come, eh? Saluto, a con la riduzione, appunto. Esatto, va bene Giovanni, due saluto a me, buonanotte a tutti, ciao Giovanni, a mezzanotte, dovrà accostare, e' beh, dovrà ascoltare si, e poi, che lascia su delle giornali, vuole, dovrà ascoltare, buonanotte a tutti, ciao Giovanni, ciao, ciao, bene, ma si intesa a Giovanni, da Ittini, questo, come è il tuo nome, se è questo buffatore, che hanno fatto il radio, mi telefonano sempre, e lui viene a vedere, che fai il buffatore, sui filmittini, non li manchiamo mai, l'anno avventa scopo, non so, la metta, e tutto da famiglia, e te ne ha, a scatto amico, e te, che gli dà, come te, a rischio, che non ti usano come testa, ma, però se l'ascoltatore, te ne ha, e te ne ha, una parola, di amore, terminale, bene, e poi, se vi lavoriamo, facciamo così, cano, e non facciamo cosa, va bene, bravissimo, e io, intendiamo, molto, di amore, allegra la coro, via! Neite, E' bell'un'urale, su e' campù già vedo in alto in sagolina Di te' bell'un'urale, su che vivere atteso da E' colunghina, can tu mi distiare Su e' campù già vedo, can tu mi distiare da E' colunghina, che vivere atteso In alto in sagolina, che vivere atteso Canto mi distiare da e' colunghina Aiaiaiai, deve ci riusciare a legge la gola, va l'interno, va E' uno avviatore e ti prato adipare Da e' sul continente E' uno avviatore, bochezzo saluto da E' su chi si si presenta E' mano so e' minore E ti prato adipare A mano so e' minore E' su chi si si presenta E da eso continente E da eso saludare A meno di minore E so che se si mese A meno di minore 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 A meno di minore